Un matrimonio finito, una separazione, non è un fallimento, non deve essere visto come un fallimento, ma è un punto da cui riniziare, magari prendendo insegnamento dagli errori fatti. Perché ti dico questo? Perché mi capita a volte delle persone che vengono in studio chiedendomi consigli su quali siano i loro diritti in caso di separazione, ma poi non hanno il coraggio di fare il passo successivo, in quanto vedono il matrimonio come un fallimento, hanno paura di affrontare la realtà, di dirlo agli amici, di dirlo ai genitori e ai parenti, e così si continua a stare insieme nonostante ormai vi sia piena incompatibilità della coppia, nonostante non ci sia più amore, quell'amore che ci ha portato a sposarci. Ecco che il clima familiare diviene sempre più insostenibile e si vive in una situazione di continua tensione, oppure si cercano situazioni e momenti per stare fuori casa. In questi casi la decisione di separarsi è una decisione di coraggio, perché non si è bravi genitori solo perché si abita sotto lo stesso tetto, ma si è bravi genitori quando siamo sereni e fallici e possiamo trasmettere questo stato d'anima ai nostri figli. Cercare di salvare il matrimonio è una strada che comunque va fatta, perché bisogna cercare di salvare quella relazione, ma quando non c'è più nulla da fare non bisogna continuare, bisogna dire basta, ma per il proprio benessere e anche per il benessere stesso dei figli, che non possono vivere in un ambiente dove vi sono continui litigi e incomprensioni. Sicuramente è una decisione non facile che va maturata e che va presa assieme all'altro coniuge o partner, anche al fine di spiegare questa decisione ai figli e di fargliela vivere in maniera più serena possibile, anche se ovviamente all'inizio vi sarà sempre una difficoltà che i bimbi dovranno affrontare. Ecco, ritengo che un avvocato che si occupa del diritto di famiglia come me sia appunto un professionista che aiuta davvero a riniziare una nuova vita, a mettere quel primo mattone che delinea una svolta, che mette un punto da cui ripartire. Perché chi ha preso in mano la situazione e ha capito che non si può vivere assieme solo per far felici gli amici e parenti e ha compiuto un atto di coraggio e di lealtà con se stesso e anche nei confronti dell'altro partner, ha diritto a tutti gli effetti di ricominciare. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e iscriviti al mio canale, in quanto settimanalmente pubblico video in materia di diritto di famiglia e quindi potrei essere aggiornato su curiosità, aggiornamenti e anche casi reali appunto riguardanti questo settore veramente affascinante e particolare. Inoltre, se invece hai bisogno di un consulto, se hai bisogno di un confronto con me, ti invito a farlo scrivendomi all'indirizzo email che trovi qui in zona impressione. Per approfondimenti puoi anche visitare il mio sito, nonché blog, all'indirizzo www.bartoliniestudiolegale.com non mi resta che salutarti, ciao, a presto.